... Questi sono Gaccia Gaccia, sono quelle macchinette in cui si inserisce il gettone e esce la sorpresa ce ne sono centinaia, forse di più ma non sono nemmeno tanti ci sono alcuni negozi che sono specializzati solo in queste macchine e ne hanno migliaia per esempio in questa si inseriscono 200 yen e esce una sorpresa di Snoopy questo è Cibimarco Channes alcuni sono molto carini vero? ce ne sono tantissimi incredibile grazie grazie